Braccio di ferro fra l'amministrazione di Battipaia e la provincia di Salerno. Ed ieri pomeriggio, infatti, la notizia del decreto firmato dal presidente Canfora di far trattenere nello stir battipaiese per un massimo di 60 giorni la frazione secca tritovaiata prodotta dall'impianto per uno stoccaggio non superiore alle 3.000 tonnellate. Decisione presa per scongiurare probabili situazioni di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e problemi di natura igienico-sanitaria che potrebbero essere causati dai guasti al termovalorizzatore di Acerra che dal 19 luglio ha drasticamente ridotto la quantità di rifiuti trattati. Riduzione che, secondo le previsioni, proseguirà almeno fino al 4 settembre. Un grave colpo per il già precario equilibrio ambientale cittadino. L'amministrazione si è fermamente opposta, accusando Canfora di arroganza politica. Il presidente della provincia non ha nemmeno avvisato il sindaco di Battipaia, accusano all'unisono Cecilia Francese e Ugo Tozzi. Una volta lavorate dallo STIR, le Cobale devono trovare una nuova collocazione che non può essere Battipaia. Nella delibera approvata dall'Aggiunta ieri pomeriggio, l'amministrazione ha deciso di demandare all'Ufficio Legale del Comune di verificare la possibilità di fare opposizione, dinanzi al giudice competente, al provvedimento della provincia.